sento puzza di mutanda bagnata di cacca ma ricordatevi una cosa mettetevi in testa una cosa che tanti ancora non hanno capito noi tifiamo milan noi tifiamo la maglia quella non cambierà mai i giocatori vanno e vengono e a chi non gli sta bene quella è la porta ricordatevi una cosa che quando andate allo stadio voi andate a tifare milan non andate a tifare leao non andate a tifare il singolo benasser il singolo voi andate a tifare milan quando voi guardate la partita in televisione tifate la maglia campioni d'italia bentornati sul canale non sono ricoverato in ospedale potrei sembrare ricoverati in ospedale ma sono ancora in albergo iscrivetevi al canale lasciate like è tutto gratuito questi giorni non si fa altro che parlare di rinnovi 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 ma ancora qualche d'uno non ha capito un cazzo di niente la politica del milan è andare incontro alla richiesta del giocatore ma non andare a sforare col monte ingaggi se il signor benasser chiede tot il milan può andargli incontro al signor benasser ma non va non andrà mai a sforare il monte ingaggi se il signor leao chiede 7 il milan potrà arrivare a 6 ma non andrà mai ad esagerare si dispiace perdere i giocatori a zero perché poi si creano le situazioni c'ha la noglu donna rumma che sì però il milan andrà sempre incontro ai suoi giocatori ma non andrà mai a esagerare col monte ingaggi in questo momento si parla di benasserre sirene liverpool leao che il rinnovo ancora non arriva ragazzi a chi non sta bene quella è la porta e può anche andare tenendo la politica milan con monte ingaggi abbiamo comunque vinto tanti tifosi milanisti si cagavano addosso quando abbiamo perso donna rumma quando abbiamo perso cialanoglu eppure proprio l'anno che sono andati via loro abbiamo vinto troppo in questo momento le richieste dei giocatori a volte vanno ad esagerare quindi c'è la società che prende accontenta e c'è la società che cerca di andare incontro chi non è d'accordo quella è la porta e prenderemo un altro ricordate una cosa voi siete tifosi del milan supportate il milan non il singolo giocatore è è Sì!